buona sera anche dacciati ogni tanto compare anche i miei petardi poi scompare ma poi ricompare perché ogni tanto fa la gemella kessler è infatti di lei parlo a prescindere che si sposti leggermente scusi grazie lady ghost lady sadako e lady nastrino saltano ora puoi ricoprire tutto quello che te pare come da titolo a targatis chi è a targatis a targatis che è rappresentata anche nelle mie amate carte di barbara walker me la sono preparata e in questi i tarocchi figura come la principessa di bastoni eccola la mia amica targatis che c'è una mia amica di infanzia che che con le mie carte quando eravamo ragazzine mi diceva sempre ma a me quella figura che c'ha i denti nella gnappola mi fa impressione era valla a targatis chi è è una dea pesciforme corpo corpo per metà umano e con la coda al posto delle gambe che figura ci ricorda una donna che c'ha la coda di pesce al posto delle gambe la sirena lo sa pure lui e in effetti alcuni storici hanno ribattezzato a targatis come the first mermaid la prima sirena a targatis è una dea che nasce come protettrice solo ed esclusivamente del proprio luogo della propria città in siria è una dea siriana è una dea della della terra o meglio della natura del mare mi scusi ma la siria è lontana dal mare cioè non si trova proprio vicinissima al mare ma ci avrà le coste sul mare scusate avevo messo la pausa perché mi ha messo in crisi con una domanda di geografia perché io non sono un uomo di geografia devo capire ma lo sai che io di geografia faccio schifo siamo in due ma siamo in due abbiamo comunque appurato attraverso google che la siria ha il mare ecco se una parte se la magna il libano anche perché questa divinità qua era una divinità marina era per quella mia domanda ma appunto in parte il fatto che venga definita la prima sirena lascia già un'idea del dove possa essere venuta fuori questa dea poi nel corso della storia è stata accumulata ad astarte a ishtar a venere afrodite e i greci in principio la chiamavano d'erceto ma a parte d'erceto che era il suo nome tradotto in greco le altre idee poco avevano a che fare con a targatis a targatis ripeto era in principio la dea protettrice della siria nata lì con i suoi culti a noi purtroppo poco pervenuti se non qualche tavoletta peraltro cuneiforme riportata in seguito dai cananei ma il suo culto era radicato principalmente appunto nella sua regione di protezione il suo nome indicava anche la padrona del luogo e anche questo fa pensare a un essere in qualche modo vivo e vegeto più che a un entità astratta pregata poi per ultima considerazione attar dal semitico dal cananeo e soprattutto dal sanscrito significa semplicemente dea il continuo della parola gattis potrebbe significare signora del quindi dea signora del luogo ma potrebbe anche essere ripreso da una parola antica greca che appunto è gatos che significava pesce e quindi diverrebbe la dea pesce ma ripeto atar è il termine siriano per identificare una qualunità comunque dea e come se noi diciamo oggi come oggi quella è una dea se io parlo di una dea specifica che ha una sua storia una sua origine divina dirò quella è afrodite quelle venere quelle freia quelle diana quelle giunone quella era quella è brigitte e via dicendo allora sto specificando che è una dea ma quale idea mentre invece attar significa semplicemente dea quindi si presuppone che questa attargatis fosse una divinità divinizzata dai siriani stessi questo cosa significa significa che presumibilmente come per la dea la dea dea tra virgolette il personaggio mitologico poi divinizzato in due divinità separate di cui ho parlato la volta scorsa che era medusa e che è sì al pari di una divinità a livello di energia potenza è sì un'entità elevata esistente ma è un'entità elevata non della quinta dimensione come altre divinità preposte ma della quarta in pari in pratica un defunto della razza serpide per quanto riguarda medusa estremamente energetico a livelli da diventare un'entità elevata ma un'entità defunta elevata come dicevo prima probabilmente a targatis ha subito la stessa sorte in quanto è una divinità è un'entità elevata estremamente energetica ma se medusa almeno una delle due meduse l'altra divenne poi comunque sempre un'entità elevata defunta ma di razza umana che è quella che divenne poi la dea orgia in sardegna per quanto riguarda invece a targatis presumibilmente era una creatura tra l'altro delle creature parleremo anche nella live di lunedì primo maggio sulla mia pagina scrittrice presumibilmente appunto a targatis in realtà altro non era che una sirena una creatura vive vegeta divenuta poi in seguito una un'entità defunta con l'anima di sirena divinizzata poi dal popolo siriano e in seguito avendo poi allargato il suo dominio e la sua conoscenza nel resto del mondo antico prendendo l'appellativo di attargatis ovvero la dea pesce come abbiamo già spiegato anche per medusa ma anche per altre tipologie di entità di un certo calibro anche una divinità anche un'entità defunta se iper onorata iper pensata iper nominata e pregata venerata e quant'altro può raggiungere livelli energetici tali da essere considerata comunque a tutti gli effetti con la potenza di una divinità preposta non ha altre derivazioni seppur sia stata accumulata in maniera errata peraltro da alcuni storici del passato appunto a divinità come l'afrodite o ishtar astarte e via dicendo non ha in realtà nulla a che vedere con queste dee seppur a volte i loro nomi siano stati remixati nelle mitologie soprattutto per quanto riguarda l'ederceto nella versione greca che poi viene appioppata a tifone ci farà due figli poi il mito verrà mescolato con quello di afrodite che in realtà si metterà con tifone ci farà due figli poi un figlio solo che poi sarebbe eros ma poi eros non è più figlio di tifone ma diventa figlio di efesto perché i greci avevano sta mania di fare poi il beautiful sopra al culto e quindi tra una divinità e l'altra partiva la sigletta parapa 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 ma non c'entrava niente e quindi anche quando a targatis venne ribattezzata in grecia e in tutta la penisola ellenica d'erceto iniziò a entrare con olio e vasellina in più miti possibili come succedeva alla quasi totalità delle entità dei personaggi delle creature che i greci assimilavano degli altri popoli ma come dicevo prima il suo punto di nascita il suo fulcro di esistenza parte dalle coste siriane come la dea pesce a targatis protettrice proprio delle coste siriane la mia opinione appunto come per quanto riguardava medusa anche per a targatis è che in realtà a targatis quando era in vita vive vegeta non fosse una divinità ma fosse un sirenide un sirenide che proprio a causa della sua forza delle sue capacità della sua forma della sua esistenza in qualche modo già mistica per gli esseri umani del periodo venne inquadrato come divinità del mare e da lì il mito della dea di quel mare del mare siriano una volta venuto a mancare perché le sirene almeno per quanto riguarda il culto occulto il culto occulto della loro razza sembrerebbero essere delle creature estremamente longeve ma non immortali e che appunto a targatis venerata anche in vita come una divinità scesa in terra o meglio scesa in mare divenne poi alla sua scomparsa o alla sua dipartita venerata continuata a essere venerata come dea di quel luogo che poi si espanse in gran parte nel mediterraneo poi appunto ogni culto e religione nuova che usciva o anche non nuova ma che si andava a mescolare con le altre assorbiva i vari dei i vari personaggi i vari eroi degli altri miti e li rimodellava accuzzandoli a qualcosa di conosciuto da loro per questo che in alcuni tratti storici in alcuni reperti somiglia ad alcune divinità di altri luoghi anche la itita urrita e babilonese in parte anat tanto che è stata anche classificata come possibile stessa dea perché come dicevo prima atar poteva essere cioè era un termine per identificare una dea a prescindere cioè una divinità femminile punto e gatis potrebbe ma qui proprio altro che vasellina ricordare per assonanza la dea itita anat che comunque secondo me da gatis ad anat ce ne passa e come io mi chiamo sveva e mi chiamate simona cioè ok comincia con la s ma per il resto ci acchiappa una fada ma alcuni eh storici antichi trovarono anche questo possibile scamotage per l'esistenza di atar gatis come ho detto però sin dall'inizio attar 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 gatis era la padrona alla fine la dea padrona quindi che aveva la proprietà di hierapolis hierapolis è l'odierna manbi che si trova in siria e il suo nome stesso identifica semplicemente la frase la dea pesce la dea padrona pesce credo che la soluzione al dilemma considerando che non ci sono altre strade che hanno portato a questo mito o a questa divinità proprio a livello storico archeologico ed essendo ormai appurato che era una divinità del luogo descritta come appunto la donna pesce la dea pesce nel penso 100 per cento dei casi la soluzione più concreta su atar gatis sia proprio questa che la signora dei mari di hierapolis fosse in principio una sirena proprio come dicono gli americani e gli inglesi gli inglesi più che altro the first mermaid ovvero la prima sirena che abbia interagito che sia stata in qualche modo conosciuta di persona faccia a faccia con degli esseri umani e a causa delle sue peculiarità fosse stata scambiata per una divinità e poi continuata a essere venerata fin quando divenuta poi entità quindi fino alla sua morte 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 fisica con la continuazione della venerazione verso di lei abbia ricevuto talmente tanta energia da diventare effettivamente una divinità preposta a tutti gli effetti ma una divinità preposta come nel caso della medusa della quarta dimensione e non della quinta della vita come tra virgolette la maggioranza delle divinità preposte che sul pianeta terra si sono espanse e sono state conosciute nel corso della storia e dei popoli questo è tutto ciò che sappiamo su sua targatis e questo è anche tutto ciò sul quale si può ragionare e si può risalire dal suo mito alla sua figura a tutto ciò che concerne il racconto e la leggenda che vige intorno a lei che sia della quarta che sia della quinta ma non credo che sia della quinta è comunque un'entità estremamente potente elevata protettrice per lo più delle donne soprattutto delle donne che hanno delle difficoltà a rapportarsi con gli uomini una sorta di icona femminista dell'antichità per alcuni versi genitrice degli esseri viventi del mondo intero in quanto già i siriani all'epoca dell'ignoranza sapevano comunque che la nascita delle creature del pianeta terra era partita proprio dal mare quindi una sorta di altra mamma dell'umanità per il mito siriano considerate infatti anche una dea della fertilità tanto da venire rappresentata a volte sempre con la sua bella coda di pesce ma anche con un fascio di grano in mano che in qualche modo poi i greci rapportarono tanto per cambiare da d'arceto a cibele mixando anche appunto di nuovo un'altra volta i miti e mescolando i miti di d'arceto con i miti di cibele ma cibele è più moderna d'arceto è molto prima di cibele come tipo di mitologia e d'arceto è l'unica è l'unico personaggio greco che è in tutte le forme la derivazione precisa di ciò che era per i siriani Atargatis non c'è altro da dire sulla bellissima dea sirena che peraltro io adoro perché nacque lì il culto di Atargatis non è stato preso assimilato da altre mitologie più antiche e via dicendo Atargatis nasce come Atargatis presso proprio il popolo siriano il suo nome sin da subito fu Atargatis e sin da subito quindi significò dea pesce padrona inteso di quella terra che altro dire nient'altro la raffigurano a volte bellissima a volte inquietante qui è raffigurata con un viso di donna con due occhi sui seni e con la bocca coi denti non so se riuscite a vederla bene nel luogo nel luogo dove le donne normalmente hanno o suol suolano aver la patonza ma in generale nelle raffigurazioni antiche viene disegnata scolpita descritta o con il semplice corpo di sirena quindi fino all'ombelico donna e dall'ombelico in giù coda di pesce o con il corpo intero di donna con tanto di gambe ma con al posto del sedere praticamente una pertuberanza che finisce in una coda di pesce altre descrizioni sue non ne esistono lei nasce così lei nasce con quella forma lei nasce con quel nome Atargatis quindi tutti gli indizi portano a pensare che la dea del mare della pesce padrona fosse in realtà proprio una creatura una sirena avvistata vista incrociata dagli umani del luogo siriano che in seguito appunto alla sua forma alla sua longevità e ad altre peculiarità che può avere la razza sirenide onorata col titolo di dea e anche stasera abbiamo parlato di un'entità elevata ma ce ne sono tante ma tante ma tante che prima che finiamo di raccontarle tutte facciamo facciamo dobbiamo essere longevi come lei lady ghost lady sadako linea strino risalutano io invece pure vi ricordo che qua sotto ci sono tutti i link dei vari social dove mi trovate un po' più sotto tre o quattro dei mille mila link che tengono in vendita i miei libri primo fra tutti e più utilizzato amazon libri anche perché spedisce in tutto il mondo ma anche ibs street lib totem e tantissimi altri feltrinelli mondadori libreria universitaria e chi più ne ha più ne metta sia qua che all the world in tutto il mondo lady ghost lady sadako le dinastino risalutano non so nemmeno se l'avevo già detto io invece pure ciao